Alessio Pignatelli, mercoledì inizia anche la Coppa, per cui un altro impegno per la Margutta Asp è un obiettivo, anche questo, oppure è un modo per togliere forze al campionato? Guarda, le partite vanno tutte giocate per vincere e per fare bene, questo è evidente. È chiaro che l'obiettivo primario quest'anno abbiamo concordato con la dirigenza che debba essere il campionato. Per cui è evidente che se ci sono stati di forma da recuperare o prestazioni così, privilegeremo il discorso campionato. Federica Bricchetti, lo chiedo anche a te, puntate anche alla Coppa, anche perché avete un po' il vizietto di portarla a casa alla fine della Coppa Lazio. Sì, come ha detto Alessio, noi giochiamo per vincere, non per regalare le partite, quindi cercheremo di guadagnarci anche la Coppa. Testa però al campionato, ha vinto la Virtus Latina, siete rimaste quindi a due punti, ci sperate nel sorpasso, volete rimanere attaccate alle avversarie almeno fino allo sconto diretto? Sì, noi faremo del nostro meglio per andare sempre più su, non ci accontentiamo insomma.